A Padova truffa da 4.000 euro vittima una comunità di suore. Un falso direttore di banca e una falsa dirigente della regione hanno convinto la madre superiore a versare 4.000 euro su una carta ricaricabile per restituire una parte di 26.000 euro promessi alle suore per un ricorso vinto 4 anni fa, ovviamente del tutto inventato. Sembra che collegata a questa truffa ce ne siano molte altre indagini in corso della questura.